L'equidity trap, that new money stuck in the banks, the deficits could be the cure you've been looking for, let the spending soar, now that you know the score. Benvenuti al prima, diciamo, esperimento di podcast di Scenari Economici. Oggi parleremo di quello che sta succedendo dopo l'annuncio di Draghi relativo all'estensione del QE e di quello che stanno comportando i tassi negativi sul mercato nel mondo. Come sapete, oggi Draghi ha annunciato che il QE proseguirà praticamente per tutto il 2017 sicuramente e anche oltre se non verranno raggiunti gli obiettivi di inflazione del 2%. Quindi andiamo a un QE su infinito quasi. Inoltre abbiamo visto che Draghi ha abbassato i tassi di interesse già negativi sulle operazioni overnight, come abbiamo scritto anche su Scenari Economici, e gli abbassati passando dallo meno 0,2% al meno 0,3%. Quindi siamo ampiamente nei tassi negativi. Ora, l'obiettivo di questa operazione è far sì che le banche prestino più soldi e non li depositano presso la Banca Centrale Europea e nello stesso tempo obblighino la gente in un certo modo a impegnare il proprio denaro e non solo a tenerlo in banca in attivo. In teoria le banche dovrebbero trasmettere questi tassi negativi ai depositanti e far pagare loro quindi questi interessi negativi. Ora, vediamo come i tassi negativi siano stati utilizzati da molti paesi europei. Vediamo subito il grafico relativo. Ecco qua. Questi sono attualmente i tassi applicati negativi dalla BCE, hanno comportato anche un abbassamento e un passaggio in territorio negativo dei titoli di Stato, sui quali tra l'altro il QE si viene a esercitare. Vediamo come ormai ci sono un gran numero di titoli di Stato europei i cui tassi di interesse vengono a essere negativi. La Svizzera ha tutte le lunghezze. L'Italia, come vedete, abbiamo solo i tassi a breve termine che sono negativi, ma la Germania si sta avviando a una situazione di carattere svizzero. Il QE, essendo praticamente portando all'acquisto dei titoli di Stato, viene a deprimere le rendite dei titoli di Stato e questo, insieme ai tassi di interesse negativo, viene a bastonare le rendite dei titoli stessi. Ma a noi interessa soprattutto questo, come grafico. In questo grafico potete vedere qual è stato l'andamento dei tassi di interesse delle banche centrali negli ultimi sei anni. Vedete come praticamente si è passati da tassi, per esempio nella Svezia, del 2%, a tassi negativi, approssimativi come quello della BCE, anzi leggermente superiore a quello della BCE di oggi, mentre abbiamo la Svizzera che ha un bel meno del 0,75% nei tassi overnight e lo stesso la Danimarca. L'obiettivo sia per la Svizzera che per la Danimarca era quello di dare una spinta all'economia. In realtà, come stiamo vedendo, sia il QE sia i tassi negativi non stanno dando quella spinta all'economia che ci si aspetterebbe. Perché? Prima di tutto il QE europeo è un QE basato solo, quasi esclusivamente, su titoli di Stato o titoli ad altissima sicurezza. Quindi, come abbiamo visto prima, quello che è successo con il QE è stato quello di mandare in negativo l'andamento della rendita dei titoli di Stato europei. Mentre il QE americano era molto più ampio e andava anche direttamente quasi su credito al consumo, il nostro QE è molto limitato come ampiezza. E quindi, essendo concentrato solo su poche categorie di titoli, fa sì che non ci sia quella ricaduta che ci si aspetta. Oggi Draghi ha annunciato che verrà esteso anche i titoli delle municipalità, ma in un momento c'è un problema molto complesso, che è quello legato alle norme europee sui bilanci. È inutile che io paghi zero il mio debito se non lo posso creare, perché le norme di bilancio volute da Maastricht mi impediscono di creare questo debito. E quindi rimango sempre vincolato a una situazione estremamente negativa, cioè io non do rendimento al mio titolo di Stato, nello stesso tempo non posso aumentare il mio debito perché ci sono i vincoli di Maastricht, non posso spendere, quindi non posso rilanciare l'economia. Ora vediamo anche un'altra posizione che si sta creando. L'obiettivo delle tassi negativi era quello di portare a un aumento dei prestiti, rendendo più conveniente per le banche fare i depositi a tasso praticamente zero, in teoria anche a tasso negativo, piuttosto che tenersi il denaro in casa. Ora, in realtà questo non sta accadendo. Vediamo questo grafico che si riferisce alla Svizzera. Vediamo come il costo, da quando sono passati i negativi, il costo dei prestiti in Svizzera sia addirittura leggermente aumentato. Cosa succede? Succede che i tassi negativi hanno un effetto perverso. Le banche non vogliono, in teoria le banche dovrebbero trasmettere questi tassi negativi alla propria clientela. Quindi se io ho un deposito in banca di 10.000 euro, in teoria dovrei perdere una certa percentuale ogni anno, un tasso di interesse negativo. Ora questo però non accade. Le banche non se la sentono, non riescono a trasmettere alla clientela questi tassi negativi. Non riuscendo a trasmettere alla clientela questi tassi negativi, si trovano però ad avere dei costi ulteriori, legati appunto al costo che devono pagare per depositare eventuali cessi di cassa presso la banca centrale europea o presso la banca centrale svizzera. Allora cosa succede? Avendo questi costi extra e dovendo in qualche modo ribaltare sulla clientela, non li ribaltano sulla clientela che deposita il denaro, ma li ribaltano sulla clientela che chiede i mutui. E come si vede da questo grafico, chiaramente, dal momento in cui i tassi sono negativi per la banca centrale svizzera, è successo che le banche dovendo quindi recuperare questi costi, hanno aumentato il costo del denaro alla clientela. Si tratta quindi di un effetto esattamente opposto a quello che vogliono le banche centrali. Le banche centrali anche volevano concedere più denaro, e questo in parte ci sono riuscite, ad un tasso bassissimo, invece hanno avuto come risultato quello di vedere un leggero aumento del costo del denaro stesso. Poi ci sarebbe un discorso estremamente più profondo, che raffronteremo magari in seguito, legato al fatto che la presenza di tassi negativi non è più compatibile con la presenza del denaro contante. Per accennare la cosa a questo fatto molto rapidamente, possiamo dire che se io posso detenere le banconote, eviterò di pagare un tasso negativo eventualmente in una banca. Quindi avrò una situazione in cui le banche centrali si troveranno in grossa difficoltà ad applicare tassi negativi o ad aumentarli, e questo, da quello che trapeva per esempio dalla Fed, potrebbe essere un progetto di diverse banche centrali. Praticamente si tratterebbe di una sorta di imposta patrimoniale che chiunque ha denaro contante depositato in una banca si troverebbe a pagare. Ma finché esisterà il denaro contante, quindi avrò possibilità di detenere in casa i soldi liquidi, non è possibile applicare questa tassa. Quindi io sarò obbligato, prima o poi, a eliminare il cash se voglio veramente applicare i tassi negativi. Si tratta di una cosa estremamente, di una mossa estremamente azzardata, estremamente pericolosa, estremamente non popolare, e almeno nel breve periodo, sarà molto interessante vedere come potranno le banche centrali applicare una mossa del genere. Io vi ringrazio, voi che avete ascoltato questa registrazione, e speriamo di poterci vedere in una futura occasione, di poterci sentire più che altro in una futura occasione. Io vi ringrazio e a presto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.